ottimo c'è un basso passaggio il bar è iniziato allora ci sono stati di vedere perché non ha i chi vuoi andare in casa 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 en casa l'ippy no nel in casa l' complaining però vero una dunque ma Quanto voi facevamo a far l'uomo? Venivano da tutte le pratiche? E io mi guardo l'uomo. Uno si scrive. Ma lo perdete voi? No, non lo faccio. Ah, lo avevi legato. Lo spazio è quello che è. Ah, voi devi stare sempre là, perché qua c'è la pista. Non lo faccio. Ma lo faccio. La giusta la pista. E' un'altra. Non è una giusta. Ma non ho iniziato a dappare la visibilità. E' un'altra. Ma oggi l'ho iniziato a insegnare le cose. E' un'altra. Ma questa è la giusta. E' un'altra. E' un'altra. E' un'altra. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti